Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi faccio un unboxing, ma senza il box. Già, perché è un unboxing un po' particolare, visto che sono appena tornato da un viaggio sulle colline toscane, perché Luca e Gabriele di RCE Fotolivorno hanno inaugurato la loro sala posa. Una bella sala, ve ne parlerò in un video dedicato. Così ho detto, ma sì, dai, vado a trovarli, faccio qualche scatto e mi faccio anche qualche giorno di vacanza, perché no? Ma quale vacanza? Si può fare vacanza in un paese dei balocchi come quello? Assolutamente no. Anzi, andavo a letto sperando che arrivasse presto il mattino per andare a fotografare, per andare in giro fra queste meravigliose colline toscane. E così mi sono portato a casa un sacco di dati, di sensazioni, di emozioni, ma soprattutto tante prove di obiettivi, che sicuramente hanno fatto crescere anche me professionalmente, perché ho imparato senza dubbio molte cose. E sono quelli di cui vi parlerò. Pensate, 235 GB di roba da scaricare e poi da analizzare. Infatti una cosa che secondo me è importante di questo unboxing un po' atipico è che tutti gli obiettivi che ho provato li ho potuti provare nelle situazioni più disparate, tanto nello street, nel paesaggio, quanto nella sala posa, cioè con la luce artificiale. E così sono partito con una Pentax K3 monochrome che effettivamente mia moglie mi ha detto ma come? Soltanto tu puoi partire per un viaggio in mezzo a tutti questi bellissimi colori con una macchina che fotografa solo in bianco e nero. Non aveva tutti i torti, però c'era anche quella in mezzo, c'era anche da compararla alla Q2 monochrome della Leica. Insomma tantissimi dati, tantissime cose e ora vi dico che cosa ho provato. Un altro aspetto che ritengo molto interessante di questa serie di video è che potrete compararli con le mie sensazioni espresse direttamente sul posto, quindi quelle che possiamo dire un po' di pancia rispetto a quelle che poi saranno analizzate in studio osservando le foto. Quindi le sensazioni del maneggiare un corredo, di metterlo a confronto con un altro, perché questo è un altro aspetto molto rilevante del mio tour, insomma di questa settimana trascorsa nel paese dei balocchi, perché ho potuto provare e mettere a confronto sistemi e corredi diversi ma nello stesso istante, nello stesso ambito, quindi ricavare delle sensazioni quanto più veritiere possibile. E allora, volete un'anticipazione? Ok, ok, ho potuto mettere le zampe sulla Pentax K3 monochrome, anche sulla Leica SL2S, una fotocamera che non avevo mai provato, la Fuji GFX100S, 100 megapixel, ma saranno abbastanza? Sono abituato a quella con 50 e questo è veramente un bel salto. E allora a proposito di Fuji, anche due, tre obiettivi Fujinon, quelli che mi sono rimasti più impressi sono il 2035 ed il 45100, ve ne parlerò nei video dedicati. Ma a proposito, ho portato queste fotocamere anche in sala posa e poi la Canon R3, questa volta non nello street, non nelle prove tecniche che realizzo di solito, ma anche questa sotto le luci artificiali della sala posa con due obiettivi per i quali non ho parole, il Canon RF 70-200 2.8 e l'RF 85 mm F1.2. Però non crediate che mi sia accasato soltanto con Canon, perché c'era anche la Nikon Z7 Mark II che ho potuto riprovare un po' a fondo in questi test, ma soprattutto ho potuto provare il nuovo Nikon 50 mm F1.2, che devo dire la verità, ho messo un po' a confronto con i super luminosi Canon e Zeiss e poi vediamo cosa ne è venuto fuori. Ma stare nel paese dei balocchi è stata anche l'occasione per rimettere le mani su fotocamere e obiettivi di cui non ho più parlato da tempo e che invece meritano molto, soprattutto visto poi che stiamo parlando di usato fotografico. E allora la Canon 5D Mark IV? Beh, tutto si può dire di questa camera, tranne che non resterà una pietra miliare nella produzione di questa azienda. E poi una bella e piacevole riscoperta, il Canon F85 F1.4. Però c'era anche una Nikon D610 e pensate, mi son fatto un giro di waltzer col 180 mm 2.8 AFS e manco a dirlo col vecchio pompone, l'80-200-2.8 della Nikon. Ma c'è stato anche lo spazio per un ristorante di pesce sul mare, dove abbiamo potuto veramente rilassarci un po', ma poi sapete com'è, fra fotografi ci si scambia più pareri, impressioni ed è diventato un tavolo di lavoro piacevolissimo in compagnia di un cibo ottimo e di una vista mozzafiato. Beh, con me al ristorante c'era la Leica Q2 Monochrome, ancora un modo per incontrarla e per parlarvene nuovamente. E poi il Canon F2470-2.8, la seconda versione, quella da mettere a confronto con la prima, ma anche, pensate un po', da mettere a confronto con il medio formato della Fuji, per capire quale dei due corredi poi risulti la scelta migliore per andare un po' a spasso fra le colline o passeggiare per ritrarre il paesaggio. Ho potuto incontrare anche il 35 mm Canon F1.4, ma la seconda versione, vi avevo già parlato della prima, è questa. L'ho portata in sala posa e... Un bel caratterino, eh? Vabbè, in sala posa non poteva mancare. Sua maestà, Canon RF2870-F2, strepitoso. Ma c'era anche il 135-1.8, l'RF, il Sigma 105 Art, il Nikon 70-200-2.8 della serie Z. E per ultimo, pensate un po', dulcis in fundo, ho potuto anche provare in anteprima la Sony A7R5, la Mark V, di cui, insomma, ci sono aspettative, ma anche qualche punto di domanda. E allora è vero, è stata una veloce presa di contatto, ma le idee mele sono già chiarite. E allora non resta che salutarvi rimandandovi ai video. Ah già, ma to' una GFX100S. Mica male, ci ho lavorato tanto con questa fotocamera perché è una di quelle che mi interessa particolarmente, è una, insomma, una medio formato da 100 megapixel, con tutti i suoi pro e i contro, ma non voglio anticiparvi niente. Vi aspetto nei video, ciao!